francamente i colleghi giornalisti mi deludono, mi deludono ogni giorno di più e lo sapete perché? Perché cari colleghi giornalisti, magari molto più giovani di me, ma qualcuno vi ha insegnato che fare il giornalista è innanzitutto fare il cronista, è innanzitutto guardarsi con curiosità intorno, è innanzitutto cercare di proporre nei propri giornali e di scrivere degli articoli su quello che c'è di nuovo o di diverso che potete registrare intorno a voi. Ve l'ha insegnato qualcuno? Se non l'avesse insegnato ve lo insegno io in questo momento, ma comunque sia, io mi chiedo se c'è una realtà, sì sono quello intrippato di ebook, ma se c'è una realtà nuova nel mondo editoriale da alcuni anni è quello del libro elettronico, ebbene il giochetto del conformismo del giornalista il quale vuole fare carriera è quello di dire il libro elettronico è una schifezza, meglio leggere su carta eccetera eccetera, vabbè superando queste bassezze di umana cronaca quotidiana mi spiegate perché visto che il libro elettronico esiste, visto che il mercato in Italia anche se estentatamente del libro elettronico sta crescendo, vi occupate molto poco del libro elettronico, nel senso sì c'è chi fa le classifichine degli ebook più venduti e guarda caso sono sempre gli ebook dei soliti grossi gruppi editoriali, ma non c'è nessuno che si occupa di libro elettronico a livello di informazione, a livello di recensione, ma qual è il giornalista il quale può dire di aver parlato di un libro elettronico ricordandosi di indicare una cosa fondamentale per i libri elettronici, almeno l'indirizzo del negozio in cui si può acquistare questo libro elettronico. Non vorrei dire che il problema degli ebook, non vorrei arrivare a questa conclusione che il problema degli ebook è perché esistono tanti colleghi che stupidamente boicottano l'ebook, ignorando il fatto che magari le loro ambizioni letterarie potrebbero un giorno essere soddisfatte dalla pubblicazione in ebook. Grazie a tutti.